che spettacolo è ma che spettacolo è buongiorno ragazzi bentornati sul canale vi faccio gli auguri di buon natale e buon anno credo che questo video uscirà con l'anno nuovo oggi mi trovo a Ozzano dell'Emilia provincia di Bologna e andiamo a fare un giro a ispezionare il trail sui calanchi di Ozzano quelli in fondo sono i calanchi di Sant'Andrea io adesso parto e vado là sopra verso la chiesa di Sette Fonti quindi state con me e divertitevi località Sette Fonti wow tornando lì verso la chiesa di Sette Fonti cinquino Abarth che fa eccoci qua chiesa di Sette Fonti su di qua buongiorno ovviamente siccome lo ho messo proprio apposta wow Grazie. Il primo trail, vediamo un po'. Grazie a tutti. 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 Che spettacolo. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 con le bike. a tutti. 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 un bel muretto. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. adriana. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. qui di monte. a tutti. a tutti. a tutti. qui la trattoria qua sono ancora messi così, è venuto giù la montagna qua che tristezza che mette questo paesaggio tutto franato Monte Calderaro e le sue antenne ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao potete prendere anche il treno fino a qua, è uscita Osano delle Miglia grazie a tutti